Sebastiano Tusa è una delle vittime italiane del volo ET-302 dell'Ethiopian Airlines. Archeologo di fama internazionale, docente in diverse università in Italia e in Germania, specializzato in archeologia subacquea, Sebastiano Tusa era anche assessore ai beni culturali della regione Sicilia, pul successore di Vittorio Sgarbi. Tusa si stava recando a Malindi, in Kenya, per partecipare ad una conferenza internazionale dell'UNICEF. Tra le vittime italiane finora identificate risultano anche due volontari della ONLUS Africa 3000 di Bergamo, il medico Carlo Spini e la moglie Gabriella Vigiani, originari della provincia di Arezzo. Un'altra vittima è Paolo Dieci, romano, presidente dell'ONG CISP e ReteLink 2007.